Durante la puntata del Grande Fratello, Vip è andata in onda ieri sera. Amedeo Goria, dopo aver incontrato la sua ex Maria Teresa Ruta ed aver vinto una nomination, ha saputo anche della possibile gravidanza della sua compagna vera. Le immagini della donna con un pancino sospetto sono state mostrate al giornalista tramite uno stralcio di Pomeriggio 5, dove Barbara D'Urso ha affrontato l'argomento. Se la reazione indiretta è stata di sconcerto, quella dopo la puntata è stata anche peggio. Sono notizie possono succedere se sono fertile? Purtroppo sì, anche altre volte è successo, ci sono stati dei rischi. Dovrei farmi sterilizzare. Una bella vasectomia. Infine si è detto preoccupato per l'ipotetica reazione dei suoi figli, Gian Amedeo e Gwenda. Sono preoccupato. Immagino però Gwenda, che già non vedeva benissimo Vera. E poi Maria Teresa. Prima l'ho vista, ma non mi ha potuto dire niente. Lei ora è un po' fuori da tutto. Il giornalista Giosquillo ha poi aggiunto. Io ho 67 anni. Non me la sento di essere papà. A 68 anni avrei un bambino di un anno. Sarai un nonno. Domani chiederò di avere un confronto telefonico con lei.